Salvatore Guastella Salvatore Guastella Salvatore Guastella abbiamo provato a tirare da fuori ci ha provato Galano ci ha provato Bellomo in sua punizione ci ha provato benissimo Donati perché ha fatto gol quindi come l'amico l'ultimo che ha chiamato giustamente gli sembrava di di vedere un'altra squadra un'altra squadra che cosa è successo e questo è sono due prestazioni veramente diametralmente opposte proprio come modo di giocare però secondo me credo che è evidente che la strada da percorrere è questa non quella fino a insomma a un paio di domeniche fa d'accordo con te ovviamente Salvatore abbiamo un altro telespettatore in linea pronto buonasera 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 Salvatore tanto a tuo no che piove che cosa voglio dire con questo ce ne abbiamo messo tanta ci voglio dire diciamo che noi a Bari siamo un po' masochisti abbiamo avuto i due allenatori precedenti Alberti e Zavettieri che praticamente ci hanno messo un girone di impero per capire che quella squadra avrebbe dovuto giocare col 4-3-3 poi praticamente abbiamo avuto mister Mangia stesso discorso ha rinegato tutto quello che ha fatto per passare al 4-3-3 dove le prestazioni migliori la squadra le ha espresso con 4-3-3 poi è venuto mister Nicola rimette in discussione tutto per ritornare poi alla fine nel 4-3-3 spero che adesso praticamente le cose siano un po' più chiare perché se visto l'assetto in campo della squadra era molto più equilibrato non abbiamo subito niente adesso tutti casomai diranno che il Lanciano non ha fatto niente però diamo merito al Bari che probabilmente la squadra era molto equilibrata e in difesa non abbiamo preso questa volta neanche un tiro in porta grazie ottenendo la vostra risposta grazie grazie per il suo intervento tra l'altro la prima reazione del Lanciano l'abbiamo avuto al 47esimo del secondo tempo cioè non ci sono stati per niente chi l'importa quest'oggi è stata veramente una ripeto una vorrei che questa mia affermazione che sto per dire ingenerasse chissà quale cosa oggi è stata una buona prestazione ripeto di una squadra soprattutto considerando da dove venivamo cioè dalla prestazione precedente oggi è stata una prestazione buona la squadra non ha rischiato praticamente mai l'ho detto prima salvo negli ultimi 3-4 minuti quella della disperazione nel tentativo di chissà che quando il Lanciano ci ha provato buttando la palla lì in mezzo all'area ma Guarna è stato inoperoso tranne sul tiro di Turchi credo che si che ha alzato sulla traversa dopodiché ha fatto un paio di uscite di ordinare amministrazione ripeto questa per quanto mi riguarda è questo l'assetto che deve avere il Bari a prescindere dai protagonisti ovviamente non possono giocare sempre questi 13 per tutto il resto ad esempio Schiattarella credo proprio salta alla prossima voglio dire però mi auguro che il mister Nicola si sia ampiamente convinto che questa è la strada da perseguire di abbandonare tutto il resto credo credo che la pensiera come 3-5 1-2-3 lasciamo per le approvate tutte speriamo che credo che questi numeri a me non mi piacciono tra l'altro dare numeri però stavolta è giusto darli credo che la disposizione a 4 dietro poi 3-1-2 3-3 all'occorrenza l'importante è che ci sia una difesa a 4 che possa dare un attimo 4-3 i centrocampisti lì davanti sono secondo me la base poi per quanto riguarda i 3 attaccanti ovviamente bisogna lasciarli tra virgolette liberi al loro estero perché se c'hai in campo Galano e Boateng è chiaro che ti comporti in un certo modo ne parliamo tra pochissimo subito dopo avrei dato la linea ad un altro telespettatore pronto buonasera ciao Barbara saluto Guastella buonasera Gigi Dabari ciao buonasera beh ci sono alcuni punti che mi fanno ben sperare uno su tutti è Guarna che ne riuscite finalmente siamo un po' più tranquilli in curva i due cagnacci centrali Rinaudo Contini la coppia che ha giocato con il Napoli non dimentichiamo e penso che una buona Serie B comunque possano farla e ovviamente Boateng finalmente un elemento che è stato all'uomo speriamo che abbiamo ritrovato un idolo dopo Camatà io comunque a Romizzi non rinuncerei mai sinceramente a Romizzi non rinuncerei mai ciao grazie grazie per per il suo attento adesso con il centrocampo a tre è chiaro che Romizzi diventa fondamentale no non diventa fondamentale ma se la deve giocare anche se io sono un altro che Romizzi lo metterei sempre se sta bene io con te però c'è c'è Donati c'è anche Schiattarella insomma che sono anche loro non è che sono propriamente da meno una bella competizione ma avere a disposizione buoni giocatori per certe cose va bene non fa male ed è giusto no è giusto sì e quindi quando qualcuno deve tirare il fiato non è propriamente al massimo sai che puoi contare a pieno sull'apporto di uno di quelli che puoi intercambiarli senza avere stravolgimenti di nessun genere per questo dico visto che ce l'abbiamo continuiamo su questa strada che è quella che abbiamo visto oggi intravisto oggi sono d'accordo con l'amico che ha detto che vabbè lasciamo perdere magari qualcuno dirà che il Lanciano Lanciano si è presentato con sette punti più del Bari quindi qualcosa in più ha fatto certamente quindi merito a questo Bari che non ha rischiato praticamente nulla quest'oggi diamo la linea ad un altro telespettatore è pronto buonasera sì buonasera Michele da Bari buonasera Michele saluti a te a Guastella buonasera niente volevo chiamato perché vorrei gradirei non penso da voi ma un po' più di ottimismo da parte dei tifosi specialmente dalla prima chiamata che ho sentito da quel signore ahimè un po' con l'età che si lamentava dell'on gioco del Bari di oggi beh io vengo dallo stadio onestamente metterei la firma per vedere il Bari di oggi e gli altri che giocano tanto meglio di noi 2 a 0 nessuna palla fatta da gol da Lanciano la difesa ha tenuto bene sempre in pressing pericolosi in ogni ripartenza onestamente più di questo io non posso pretendere al momento dal Bari per cui un po' più di ottimismo a tutti quanti è sempre forza Bari grazie grazie per il suo intervento beh bisogna tenere i piedi per terra però ovviamente con uno magari un po' sollevato sollevato sulle nuvole perché insomma bisogna oggi soltanto che in un colpo di spugna abbiamo dato un piccolo colpo di spugna ripeto alla prestazione e ai risultati agli ultimi due soprattutto ripeto però la spugna concedetemi questa piccola deve essere questa non deve essere cambiata mi riferisco sempre al modo approccio modulo e ripeto gli uomini sinceramente quando il modulo funziona ce ne siamo accorti anche l'anno scorso li puoi cambiare in un meccanismo ben rodato se cambi protagonisti visto il livello dei nostri perché non è che abbiamo il fuoriclasse e diciamo i giocatori se abbiamo tutti dei buoni ottimi giocatori di serie B per me che messi in un contesto che funziona secondo me di queste prestazioni possiamo vedere molte di più squadra che vince non si cambia modulo più che squadra io direi abbiamo un'altra telefonata pronto buonasera pronto la sentiamo buonasera 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 signora Barbara buonasera Castella ti voglio dire una cosa noi ci facciamo male da solo il nostro allenatore si è fatto male da solo cioè ha ignorato il gioco più elementare del mondo il calcio tu hai giocato a calcio io mi ricordo quando tu giocavi con Lopez cioè eravate cioè il gioco più elementare abbiamo giocato una partita saggia una partita elementare ti ricordi quando giocavamo con Catuzzi Armenese Frappam Fludificanti allora si chiamavano Fludificanti in 70 anni ora si chiamano esterni interni 4-4-2 5-5 io non capisco di questo modo io capisco le vecchie formazioni i due centrali bellissimo come caricolo e gli ecrici ci ricordiamo questi giocatori sono poi al centrocampo un maio cioè il gioco più elementare del mondo perché vogliamo vogliamo fasciarci la testa quello 5-5-2 quello 5-1-5 io voglio il calcio semplice oggi noi abbiamo giocato una partita semplicissima e abbiamo vinto sono d'accordo sono d'accordo con lì Nicola ne ha provate un po' tutte come dicevamo prima tutti i moduli li ha girati gli fa onore adesso lo dico io sono stato molto critico con Nicola mi sembra che sono stato chiaro a me come ha giocato la squadra praticamente oserei dire fino ad oggi non mi è quasi mai piaciuta perché la palla era sempre era sempre buttata lì davanti in aria non mi è mai piaciuta oggi ripeto si è intravista quella che dovrebbe essere secondo me ripeto ancora una volta il modulo tattico che deve adottare Nicola cioè tu se c'hai se c'hai donati e bell'uomo in campo o anche galanoa e non puoi ignorarli buttando la palla